Il Milan quest'estate ha fatto una scelta chiara, una scelta precisa, quando ha rinunciato a Botman, perché si sta parlando di rinuncia a Botman, perché il Milan ha destinato il budget di 35 milioni di euro, quindi il grande acquisto lo ha destinato lì davanti, nella tre quarti, lo se ne era regalando Decatler, uno dei migliori giovani in tutto il panorama mondiale. E grazie a quell'acquisto il Milan ha portato un giocatore di grande fantasia, di grande qualità, di grande estro, che porterà goal e assist e porterà sicuramente goal e assist anche per i compagni. E quindi il Milan ha fatto quella scelta lì, ma sembra, sembrerebbe, che possa non fermarsi qui. Il Milan sulla tre quarti sembrerebbe, secondo quanto riporta del Telegraph, che stia ancora monitorando la situazione a Kim Ziyech. C'è un colpo difficilissimo, non dico impossibile, ma molto difficile in questo momento, perché il Milan ha altre priorità. Ha priorità come centrocampista centrale e poi un giocatore che possa completare il reparto difensivo. I nomi sono sempre gli stessi, sono Diallo del Paris Saint Germain, che è stato uno spiraglio, è stata un'apertura, e poi ogni edicà del Midland per il centrocampo. E quindi il Milan in questo momento, in questa fase del mercato, ha altre priorità, ha altri obiettivi, vuole regalare a Stefano Pioli elementi che possano andare ad aggregarsi al resto della squadra. Però la pista Ziyech è una pista che rimane viva, perché, secondo quanto appunto riporta il Telegraph, ci sarebbero stati dei contatti proficui tra la dirigenza del Milan e la dirigenza londinese per il trasferimento in prestito, con diritto di riscatto per Ziyech. È ovviamente un giocatore che non rientra più nei piani, nei progetti del mister, dell'allenatore Tuchel, e quindi questo potrebbe facilitare l'operazione. È anche vero che, secondo me, il Milan dovrebbe andare poi a sfoltire la tre quarti, perché se a sinistra abbiamo Rebic e Leao, abbiamo anche Origi, che oltre a fare la punta può fare l'esterno, in mezzo abbiamo Decatler, Brahim Diaz e Yasin Adli, e a destra abbiamo Messias e Saleme Kerr, quindi se dovesse arrivare anche Ziyech, uno sulla tre quarti potrebbe partire. Potrebbe essere uno tra Messias e Saleme Kerr, più probabile il Belga. Potrebbe essere, magari, il fatto che Brahim Diaz non venga confermato e venga, magari, rimandato al Real Madrid, visto, comunque, l'ottimo livello di Adli e visto, comunque, l'investimento su Decatler, anche se questo scenario, la partenza di Brahim Diaz è molto, molto rimota. Però, secondo quanto riporta il Tegra, ci sono stati questi contatti e quindi fa presagire che il Milan, magari, potrebbe cedere un giocatore sulla tre quarti e possa, magari, monetizzare qualcosina che poi vada a essere rinvestita sul centrocampo. Faccio un esempio, se parte di Saleme Kerr per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, 15-20 milioni, il Milan farebbe plus valenza, andrebbe a incassare 15-20 milioni di euro che potrebbe ridestinare al mercato e potrebbe portare a casa un giocatore, un campione affermato come Hakim Ziyech. Quindi, potrebbe essere anche una strategia vincente. Staremo a vedere, sicuramente, e quello lo riporto, il Telegraf lo ha anche confermato, Ziyech e Milan sono stati altri ulteriori contatti. È un nome che potrebbe essere, potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato quando ci sono le cosiddette occasioni, i cosiddetti saldi di mercato nel mondo del calcio e Ziyech rappresenta una grande occasione, una splendida occasione che potrebbe alzare, innalzare ulteriormente il tasso di qualità per la tre quarti rossonera. A me piace, personalmente, vedere una tre dente con Ziyech, Decatler, Leao e davanti uno tra Ibra, Origi e Giroud. È sicuramente una tre quarti, un reparto offensivo molto europeo, molto di qualità, di grande esso, di grande fantasia che potrebbe stuzzicare un po' i sogni di tutti i tifosi. Staremo certamente a vedere cosa succederà, vi riportate questa notizia, fatemi sapere cosa ne pensate. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi ringrazio di mettere mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera e di seguirci sui social, siamo su Facebook e Instagram dove ci saranno presto tante, tantissime novità e da cui potrete accedere ancora più velocemente ai nostri video.